Questo è il tavolo da lavoro con i morsetti, la pistola per la colla e per incollare le parti che servono per fare il telaio. Prima di fissare la tela bisogna poi pulire bene il telaio e togliere la colla in esubero. La pistola si usa per scaldare il silicone. Questa è un'ottima preparazione per la tela. Questa operazione serve a far penetrare bene il gesso con il bianco attraverso le maglie della trama. L'attraverso si infiltra bene e la tela si irrigidisce e poi si fa asciugare e poi si può dipingere.